nel nome del padre del figlio e dello spirito santo a me buongiorno carissimi amici ben trovati in questa quarta settimana del tempo pasquale ieri abbiamo vissuto la domenica del buon pastore io sono il buon pastore ha detto Gesù allora ci sentiamo presi in cura da un pastore buono che esprime la cura e la paternità del padre ecco allora vogliamo rivolgerci al padre con questa consapevolezza grata padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo i nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male a me il vangelo di oggi sono i primi dieci versetti del capitolo 10 di giovanni è la parte di vangelo che precede quello che abbiamo ascoltato ieri alla messa ascoltiamo dalla voce di claudio ecco allora leggo il vangelo e di giovanni che inizia proprio da oggi allora dal vangelo secondo giovanni in quel tempo gesù disse in verità in verità io vi dico chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta ma vi sale da un'altra parte è un ladro è un brigante invece entra dalla porta è pastore delle pecore il guardiano li apre e le pecore ascoltano la sua voce egli chiama le sue pecore ciascuna per nome e le conduce fuori e quando ha spinto fuori tutte le sue pecore cammina davanti a esse e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce un estraneo invece non lo seguiranno ma fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estrani gesù disse loro questa similitudine ma essi non capirono di che cosa parlava loro allora gesù disse loro di nuovo in verità in verità io vi dico io sono la porta delle pecore tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti ma le pecore non li hanno ascoltati io sono la porta se uno entra attraverso di me sarà salvato entrerà e uscirà e troverà pascolo il ladro non viene se non per rubare uccidere e distruggere io sono venuto perché abbiano la vita e e l'abbiano in abbondanza parola del signore l'ode a te o cristo in questo vangelo gesù definisce se stesso come la porta delle pecore ieri abbiamo sentito definiva se stesso come il buon pastore allora vediamo oggi cosa possiamo imparare da questa immagine io sono la porta delle pecore già all'inizio dice in verità in verità io vi dico chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta ma vi sale da un'altra parte è un ladro e un brigante chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore non sta ancora parlando del buon pastore sta parlando in generale di colui che ha la funzione di pastore delle pecore e come distinguerlo da colui invece che è un ladro e un brigante entrare nel recinto delle pecore passando attraverso la porta o entrarci salendo da un'altra parte è questo che fa la differenza che fa distinguere fra il pastore e il ladro barra brigante se un pastore non passa attraverso Gesù non è e non può essere pastore ma sarà un ladro e un brigante questo è un discernimento per i pastori come si fa a passare attraverso la porta che è Gesù? ecco io penso che detto in parole semplici potrebbe essere questo il modo di essere pastore non deve essere riferito a se stesso ma come fa Gesù deve essere riferito al padre cioè il pastore e Gesù stesso conduce al padre non a se stesso e esprime la paternità la cura del padre ecco attenzione quando il pastore riferisce a se stesso il modo di fare il modello che ha in mente deve riferirsi al padre alla cura alla paternità del padre ecco e poi in questo Vangelo c'è un secondo discernimento perché se è vero che ci sono pastori autentici e pastori che si chiamano si fanno chiamare tali ma sono ladri e briganti quindi altrettanto vero è che ci sono pecore vere e pecore non autentiche ecco vediamo un attimo quando è che si è pecora vera, pecora autentica? quando si ascolta diciamo quel fiuto che Dio ha messo come dono nel cuore di ogni pecora e che permette di distinguere la voce di Gesù di distinguere la voce del vero pastore perché i falsi pastori a volte hanno successo? è chiaro perché le pecore non hanno distinto la sua voce da quella del vero pastore cioè non hanno ascoltato quel fiuto di pecora autentica che Dio ha posto nel cuore di ogni pecora e che fa capire quando quello che gli viene detto non viene dalla fonte vera però magari ti dà altre garanzie e allora lo seguono lo stesso ecco perché trionfano anche falsi pastori perché ci sono pecore che li approvano ma perché non sono vere pecore perché non hanno ascoltato quel fiuto quel dono di discernimento che hanno dentro di sé che va mantenuto vivo attraverso la preghiera ecco un rapporto personale con Gesù e con il Padre ecco queste cose le intravediamo in queste frasi le pecore ascoltano la sua voce del pastore e gli chiama le sue pecore ciascuna per nome e le conduce fuori e poi dice le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce un estraneo invece non lo seguiranno ecco il discernimento della pecora vera ma fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei ecco allora qui c'è un doppio discernimento come dicevo che serve a chi deve essere pastore per esserlo veramente passando attraverso la porta che è Gesù e quindi questa porta significa fare come Gesù assumere il modo di Gesù che non riferisce a se stesso il proprio essere pastore ma lo riferisce al Padre e poi c'è il discernimento per essere pecora autentica che è anche capace di distinguere fra pastore vero e pastore non mandato da Dio ecco anche le pecore hanno un compito e allora invochiamo lo Spirito Santo perché donne a ciascuno di rispondere in maniera autentica alla chiamata ecco la preghiera che facciamo ora di ogni mattina sia anche il nostro sentirci e chiedere il dono di essere in comunione con Gesù attraverso questa parola che abbiamo ascoltato ecco possiamo entrare in comunione con Lui cioè questa parola diventi il pane che mangiamo che si traduce in vita in concretezza di vita in carne carne pervasa dallo Spirito vieni Gesù riempimi di Te ti dono il mio cuore riempilo del Tuo amore donami tutto Te e con Te donami le Tue virtù amami Gesù fa che io Ti ami con il Tuo amore grazie Gesù grazie che io sono qui sono qui perché Tu sei buono soltanto perché Tu sei buono vieni da me che io vengo da Te e siamo una cosa sola amore e misericordia amore e misericordia e miseria una cosa sola il mondo ha bisogno di Te amore e misericordia fa che io Ti porti nel mondo intero mi veniva in mente adesso proprio per completare che come ascoltavamo ieri il buon pastore dà la propria vita per le pecore ecco questa è per capire se stiamo passando attraverso la porta delle pecore come pastori questo è un elemento fondamentale il buon pastore dà la propria vita per le pecore il Signore sia con voi ecco il tuo spirito per intercessione della Mamma Celeste vi benedica Dio Onipotente Padre e Figlio e Spirito Santo amén ecco questo Vangelo ci ha fatto venire in memoria a noi tre quando questa mattina prima della diretta ci siamo incontrati quanto sia importante la porta e quindi la porta è Gesù e quanto dobbiamo stare attenti a questa porta perché tante volte pensiamo ad altre porte cioè teniamo magari la porta di Gesù giusto per andare la Messa giusto per fare adempiere le proprie i propri doveri cristiani ma poi seguiamo altre porte seguiamo altri altre persone oppure altre altre situazioni che ci confondono e quindi non diamo importanza principalmente alla porta che ci conduce al Padre come hai detto tutto Massimo ma dopo basta che apriamo la televisione o che ascoltiamo degli amici che ci dicono hai sentito parlare di quello lì andando attraverso di quello ho trovato dei benefici ho trovato delle situazioni mi fa star bene mi metti in pace con me stesso ecco stiamo attenti stiamo attenti perché allora non diamo più importanza solo a quella porta che è una grande porta è la porta che ci fa accedere al cielo ma non ci basta quella andiamo in cerca anche di altre perché dice io sono la vera porta quindi non è solo un rapporto esclusivo perché non è questione di esclusività è questione di amore il pastore non riesce a farsi amare dalle pecore guardiamo anche i pastori nelle cose che conducono il grege se non hanno un rapporto con le pecore le pecore non hanno un rapporto con lui quindi è proprio il Vangelo del rapporto intimo con Dio con Gesù che Gesù ci porta al Padre e se non c'è questo amore se noi che siamo le pecore non abbiamo questo rapporto di amore verso di lui come facciamo come facciamo ad accedere a lui a Dio lui ci ama lui ci ama comunque riesce praticamente a trasmetterci il suo amore perché ci ama e il segreto è che anche noi amiamo lui amiamo tutto quello che può avvenire attraverso di lui non attraverso colui che parla nel suo nome quante quante persone che sono di Dio strumenti di Dio parlano di lui ma però vedi che sotto sotto stanno accrescendo se stessi il vero pastore il vero sacerdote non è quello che accresce se stesso il vero maestro ma è colui che praticamente dà la vita per noi e quello che gli interessa è condurci al padre ecco con questo auguro una buona giornata a presto avremo anche Marco con noi che ci parlerà di questo e ancora buona giornata e buona settimana questo questo Vangelo è bello tutto però mi ha colpito molto che nel recinto Gesù ci chiama per nome io pensavo siamo una moltitudine di persone in questa terra ho sempre pensato che che cosa vuoi che Dio ha così tanto da fare chi sono io per lui ma invece invece siamo importanti e sono importanti siamo tutti noi importanti per lui perché appunto ci ama e ci chiama per nome e secondo me anche quelli che sono fuori dal recinto ama e li chiama per nome ecco il mio il mio desiderio oggi sarebbe magari se lo facciamo insieme di pregare affinché anche queste pecore che sono fuori dal recinto possano unirsi anche loro perché così provano anche loro la gioia di essere amati da Dio ecco buona giornata a tutti grazie amici ecco grazie grazie a presto grazie a tutti